Poco dopo le 14, un motociclista 44enne ha perso la vita in un incidente mortale verificato su in via Naviglio, all'altezza del distributore Kuwait. Le cause del sinistro non sono al momento chiare. Forse il centauro che viaggiava in direzione via Canalazzo ha perso il controllo dell'onda a causa dell'asfalto bagnato per la pioggia. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e il soccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il trauma riportato a causa della caduta è stato fatale. Al giungere dei soccorsi l'uomo era già privo di vita. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere i rilievi del sinistro al personale della Polizia Municipale.